Sì, sono Organa Michele Hai Michele Palazzo? Sì, sono Cecilia Rossi Sì, sono Roberta Poccolardo E siamo Michele Siamo un gruppo di 4 studenti da Lanscape Architecture Master Degree a La Sabienza University, Roma Abbiamo 4 backgroundi diversi e approcci alle team landscape Arquitecture, urban planning project management, environmental planning In questo challenge vediamo l'opportunità di provare qualcosa di diverso e approcci i topici con un'innovativa key looking beyond the present In Italia, urban farms possono essere una differenza del sistema europeo che conosciamo italiani e urban farms sono collegati con i risultati tradizioni, morphologie e con i prodotti del paese Il nostro progetto non solo sull'architecto riqualificazione ma anche vogliamo essere un modello In questo modo, il nostro visione non è limitato sull'architecture è dominato da la multisciplina Is la multisciplina un treasure? Of course perché significa la varietà di molti aspetti che abbiamo in questo progetto Multisciplina di benefici environmental, health, economica e social Multisciplina Multisciplina di funzioni e attività con diverse posizioni e point of view Multisciplina Multisciplina di soluzioni Multisciplina e Multisciplina di metodità che possiamo applicare in questo progetto Il nostro progetto è di progetto con la natura per la natura Intentare un rischio in un rischio che può essere precioso per la prossima generazione perché perché for first we always look the macro scale but are the micro details that makes the quality of the project del progetto il progetto del progetto del progetto del progetto del progetto del progetto del progetto